Simone Valiante, parlamentare del Partito Democratico, fa parte della Commissione Ambiente. Inizierà dal suo territorio, dalla campagna che presto sarà chiamato alle urne con queste primarie del Partito Democratico che come sempre stanno facendo vivere momenti non semplici. Ci dice qual è oggi la situazione in casa PD? La situazione è che le primarie per motivi tecnici sono rinviate al primo di marzo. Se non intervengono fatti politici significativi, credo nelle prossime 48 ore si terranno regolarmente e si sottoporrà al confronto democratico, sperando che possano essere gestite nel migliore dei modi con una buona organizzazione, senza problematiche legate a fenomeni di infiltrazione. Dovremmo stare attenti perché il PD essendo oggi un grande partito italiano che raccoglie tanti consensi ovviamente è oggetto anche di tante attenzioni, però credo che non si può avere paura del confronto democratico. Altrimenti si va avanti su una soluzione che potrebbe essere quella assembleare, che è prevista dallo Statuto, cioè di raccogliere i due terzi dell'assemblea che convergono sul nome di un candidato, però è chiaro che giorni passano e più questa opportunità e questa possibilità si allontana. Anche perché spesso c'è anche all'interno del nostro partito in Campania chi più che contribuire alle soluzioni, pur avendo ruoli di responsabilità, contribuisce alla confusione. Quindi credo che ormai il percorso è delineato ed è quello del primo marzo. Variante, qual è il candidato secondo lei su cui il centrosinistra deve puntare per sconfiggere Caldoro, il candidato del centrodestra? Il candidato è inevitabile. Noi avevamo fatto un tentativo su Gennaro Migliore, perché loro ritenevamo una figura nuova, fresca, che poteva portare anche un valore aggiunto e che poteva mettere insieme le anime del Partito Democratico su una proposta politica nuova. È evidente che questa soluzione richiedeva anche una spinta politica un poco più forte, la possibilità di convergere in un'assemblea, come dicevo, che è l'assemblea dei componenti del partito regionale. È evidente che però più tempo passa più questa soluzione, se non si definisce, si indebolisce. Se no, ripeto, si ci sottopone al confronto democratico e il candidato sarà il candidato che batterà Caldoro, perché siamo convinti di poter battere Caldoro, nonostante i nostri problemi e i nostri limiti, perché usciamo dai cinque anni di esperienza di governo assolutamente inutile per la campagna. Chi non la vuole definire dannosa, la migliore parola che può utilizzare è inutile. Quindi siamo in condizione di batterlo e lo batteremo col candidato delle primarie. Valiante, grazie, buon lavoro. Grazie a lei. Grazie a te.